La droga nascosta sotto la sabbia, lo spaccio fra gli ombrelloni a due passi da ignari bagnanti e quanto appurato nel tardo pomeriggio di sabato a poche ore dall'inizio della festa candele sotto le stelle da due investigatori della squadra mobile di Pesaro liberi dal servizio e al mare con i propri familiari. Poliziotti che nell'occasione avevano notato movimenti sospetti ad alcuni ombrelloni di distanza con due giovani intenti a scavare e frugare nel terreno sabbioso al ritmo di frequenti telefonate. Al fine di verificare quanto ipotizzato sul posto sono arrivati altri agenti della squadra mobile intervenuti proprio mentre uno dei due sospetti uscito dalla spiaggia si stava incontrando con un noto consumatore di droga del posto. Bloccati entrambi uno dei due sospetti risultato un ventenne albanese è stato perquisito e trovato in possesso di una dose di cocaina che stava per cedere all'acquirente. Contestualmente gli altri poliziotti ancora in costume hanno bloccato il secondo albanese di 30 anni che era rimasto sotto l'ombrellone. È stato così recuperato un involucro con diverse dosi da un grammo di cocaina assieme ad un altro contenente 5 grammi. I due albanesi sono stati pertanto arrestati nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e questa mattina sono stati condotti innanzi al giudice del tribunale di Pesaro per la celebrazione del rito direttissimo. Il giudice dopo aver convalidato l'arresto ha emesso nei confronti dei due la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pesaro Urbino.